ciao ragazzi oggi un video breve dove farvi vedere come lubrificare la catena della nostra bicicletta elettrica semplicemente con un trucchetto sia sulla mia bicicletta elettrica con motore bosch abbiamo il problema che girando indietro i pedali non possiamo come vedete lubrificare la catena perché la catena non gira l'indietro anche sulla bicicletta elettrica con motore shimano troviamo sempre lo stesso problema girando indietro la pedivella come vedete la corona non gira l'indietro ho scoperto un semplice trucchetto per lubrificare la nostra catena facilmente in questo metodo bloccare la pedivella insieme alla corona vi consiglio di prendere un filo di ferro plastificato in modo che non andiamo a rovinare sia la pedivella che la corona quindi basta unire con il filo facendo questo sistema ecco fatto in questo modo possiamo girare insieme la pedivella con la corona dato che il motore fa molto attrito per mandare indietro la corona vi consiglio di legare anche sempre con un filo di ferro la leva in modo che la bicicletta non si muove quando andiamo ad agire sui pedali in questo modo possiamo lubrificare facilmente la nostra catena nella nostra bici elettrica bene ragazzi spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial mi raccomando iscrivetevi al mio canale mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti